Mano nella mano, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, vuoi ballare? Benvenuti, accomodatevi, più tardi, niente non ci casca, siete entrati con il waltzer dei fiori di Ciaikosti, ma lo ballate questo waltzer a teatro voi? Allora io lo ballerei, io Vittoria, forse anche Enzo Iacchetti, il mio Patrick no, lo invito a ballare, è lui. Come fai a resistere ad un invito a un mazze da parte di questa ragazza meravigliosa? Vergogna! Insomma meravigliosa, nella commedia sono uno stupidone, lei è molto carina, io sono uguale anche nella vita, molto introverso, non ballo con nessuno, non voglio nessuno in casa, a meno che non venga invitato da me. Ah sì giusto, è invitato. Ecco, questo è il plot della commedia. Scritta, se non erro, durante il lockdown, è una commedia americana o inglese? Una commedia americana, scritta da Peter Quilter, la regia è di Enrico Lamanna, prodotto da Marioletta Bideri, ed è la storia appunto di queste due persone, sole, bloccate in un posto qualsiasi dell'America, da questa tempesta alta. Io sono bloccato nella mia casa. Anch'io, c'è un lockdown. Esatto, e tu esci dalla tua casa contravvenendo alla legge per venire a casa mia a rompere i miei equilibri nella mia vita così bello, solingo e solitario per chiedermi due fette di pane con delle uova. Come hai osato Vittoria? Me ne posso andare? Io non la voglio, non la voglio, perché sto bene da solo in questa casa con il metro di neve intorno. Immagino che cadrà di tutto nella commedia. Sì, perché poi invece la mia Judith è una sostanzialmente effervescente, solare, le sue storie d'amore non sono mai andate a buon fine, quindi fondamentalmente è sola. Ed è una sognatrice? Ed è una sognatrice folle però, non è una sognatrice con i piedi per terra. Ma non sei molto Judith, perché mi sembra invece più piedi per terra o c'è qualcosa di te? Io sono una con i piedi molto per terra. È un uomo, non è Judith. In che senso? Ma lei picchia, deve vedere come fa là a prendere cose, alza. Non sono cattiva, è che mi disegnano così. No, ha un carattere molto forte, molto forte. Mi ha truccato prima di entrare, non lo so perché. Mi ha chiesto. Ma vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fa un po', sì, ha tre bimbi meravigliosi, figli meravigliosi e io sono il quarto in pratica. Fantastico. Cinque con mio marito. Esatto. Io ne ho adottato uno. Ok, quindi mi sembra di capire che, diciamo, tu sei il maschile della coppia, poi hanno detto che una nonna molto forte sia necessariamente maschile, così come hanno detto che un uomo fragile sia femminile. Sì, in realtà sono quella che lo stimola, che vorrebbe, insomma, appunto, portare, svegliarlo. No, dicevo nella vita. Ah, perdonami, nella vita io sono pratica, forse sì, porto i pantaloni io. Brava. Sì. Io ho portato anche la gonna, ma tanto sono da solo, chi me vede? Cioè tu quando stai a casa ti metti la gonna? Quando pulisce. A volte sì, anche i tacchi, ma da solo, non è che esco così. Ma questo per me, guarda, vuoi anche venire qui vestito con con e tacchi, non avremo nulla a dire che... Io ho fatto il vizietto, ho fatto un zazà straordinario che ha girato tutta l'Italia. No, no, a parte gli scherzi. Nella commedia lei cerca di conquistare questo orso. In realtà appena lo conquista e lui si sta per cedere, lei se ne va. Vabbè, non ci raccontate tutto, ricominciamo dagli inizi, dall'inizio della carriera della Belvedere, che hai conciato pupetta, giovanissima, e poi vediamo anche come ha iniziato Enzo. Vittoria. E lascia in pace mia madre. È tua madre che ti ha messo in testa questa cavolata, vero? Mia madre mi appoggia, punto e basta. E lei ci crede in quello che faccio, e sei per questo anch'io. E tu lo sai che è stata sempre la mia massima aspirazione diventare una modella, fin da quando ero bambina. Aspirazione? Ma è una cosa stupida, senza significato, vuota, te ne rendi conto. Vuole fare la modella è una cosa volgare, ecco. Volevo parlare con te. E di che cosa? Di un segreto. Un segreto sul mio papà. Ti stai riferendo al tuo vero papà? Sì, quello che è andato in cielo. Quando potrò parlare con te, Ofilo? Non credo che sarà possibile. Lui è l'unico a sapere dove si nasconde. Io devo cominciare Giovanni a venire da noi. E se i romani lo trovassero, sai che significherebbe? È la sola persona che ci può salvare. Che fate qui dentro? La morte dell'ispettrice Rosati non è stato un incidente. Qualcuno l'ha spinta con la macchina in un burrone. Dottoressa, fino a prova contraria, io ero qui. Ma lei sa chi è stato? Non so di cosa stia parlando. Delle stesse persone che l'hanno fatta finire dietro le sbarre in cambio di denaro. Ah, Jessica ha fatto il Sanremo di Vittoria. Io ho partecipato a Sanremo Big con i Gazzosa. C'era il grande Pippo Baudo. C'eri tu bellissima. No, me l'ha ricordato l'altra volta quando siamo venuti qua per l'altro spettacolo. Però in realtà per me Sanremo, insomma, me lo sono goduto poco perché era la mia prima volta che salivo su un vero palcoscenico. Quello dell'Ariston poi. E la tua bellezza te la godi più ora o da ragazzina? Io più ora, ho un'altra consapevolezza. Quale bellezza? Lì era bella. La bellezza quella interiore, ovviamente. Ma che lì adesso gli tiro una penna? Lì era molto bella, era ragazzina. Ma qua è una signorotta. Ma lei è bella a 360 gradi. Grazie Samuel, grazie. Vi siete già parlati prima voi per forza. Enzo, non ti rispondo solo perché sono una signora. Senti chi parla, ma è bellezza. Mio caro, lei ha iniziato prestissimo. Perché sono un comico, quindi ironico e quindi satiro. Ma sto scherzando. Senti, che ti volevo dire? Tu invece hai avuto un inizio complicato nella tua carriera perché gli inizi non sono stati facilissimi. No, no, io dall'età di 9 anni fino a 39 ho fatto di tutto per fare questo mestiere. Con grande perseveranza. Con grande perseveranza. Chi ti ha dato la forza di continuare a fare questo mestiere? Avevi il senso di te? Tu pensavi che prima o poi ce l'avresti fatta? Sicuro, ero certo. E chi ti dava questa sicurezza? Me stesso, ma perché scappavo da chiunque mi dicesse fai un'altra cosa. Mio povero papà compreso. Non voleva, diceva che era un brutto mondo pieno di qua, di là, di su, di giù, che poi non aveva neanche tutti i torti. Però io dicevo ci sarà anche un mondo, un pezzo di quel mondo in cui il tuo ragazzo potrà fare bene comunque, indipendentemente. E lui che ti rispondeva? Poi non ha fatto più in tempo perché poverino è morto molto giovane, ma la mamma ne è stata molto fiera fino a qualche anno fa. La mamma è stata sempre con te. So che ti porti sempre la sua... Mi nascondeva le chitarre perché il papà me le rompeva. No, aspetta, scusa. No, me le rompeva. Io andavo a fare il ghiaccio per comprare una chitarra. Il ghiaccio, sai quando non c'erano i vagoni del treni elettrici? Io faccio... Vecchio, vecchio io. Andavo alla stazione, facevo il ghiaccio, caricavo questi cubi di ghiaccio e quando avevo 25-30 mila lire, comperavo una chitarra. E la portavo a casa e cominciavo a suonare in giro e poi la chitarra spariva. E spariva. Chi l'ha presa, chi l'ha presa. Mio papà me la nascondeva perché non voleva che andasse a suonare. E dovevo studiare per lui e poi la mamma me la faceva scendere dalle scale con la corda. So che tu porti sempre una foto di tua mamma, anche in tournée. Sempre, sì, sempre. L'unica foto che porto. Mia mamma è morta a più di 90 anni, per me ne ha ancora oggi 27. E mi manca come manca una donna di 27 a un uomo che l'ha sempre amata. Ho colpito? Hai ritrovato, no? Stavo pensando se hai ritrovato nelle donne della tua vita qualcosa di tua mamma o se l'hai cercata. L'hai cercata tante volte, sì. Tante. Quelle poche volte l'ho cercata. Adesso no, adesso no, non ho mai trovato le cose di mia mamma. Soprattutto la comprensione, la tenerezza e il perdono. Che cosa ti ha perdonato la mamma? Beh, tutte le mie marachelle ne facevo, insomma. E che cosa non ti hanno perdonato le altre? Le mie marachelle le facevo. Gli inizi di Enzo e Rai, vediamo. Terribili. Pagetti alla calabrese, olive, capper, peperoncino, molto peperoncino. Molto sì, è vero, si sente, ustioni di primo grado su tutto il palato, sì. Cosa volete che faccio? Volete che canti? No. Cosa volete che faccio? Volete che ballo? No. Volete che togli i pantaloni? Sì. Voilà. Mi tanti di cani, mi tanti di pantaloni. Voilà. È bello. Volete la camicia? Sì. La camicia, voilà. Ecco, volete che recito? Sì. Eh, ma se sapevo che mi chiedevate di recitare, mi sarei messo un vestito più adatto. Io mi sono studiato tutta la lingua bergamasca, delle bandagette, delle bergum, delle hula e delle huta, dai anni, delle dalle maiale, anche dei bifo ai roi. Te mi piace il motocro, a me mi piace il motocro. Sei giorni a Vivo Valencia, prossimamente non stop, domani è sabato, a cavallo inizi anni Ottanta. Sì. Io ho iniziato in Rai, ma tanti anni ho fatto in Rai. E poi media settore. Bruno Voglino mi scoprì. Bruno Voglino? Ah, ci ho lavorato anch'io con Bruno, personaggio meraviglioso. Sì, stupendo. E c'è questo aneddoto anche molto divertente, non so se te l'ha raccontato, di quando, essendosi appena sposato, va in Svizzera, pensando di lavorare in un'agenzia di viaggi e pensando di girare il mondo. In realtà... In realtà mi mettono in cima al palazzo, in un ufficio chiuso, con un manifesto dello Sri Lanka dietro le spalle. E l'hai visto lo Sri Lanka? E controllavo le fatture e ogni tanto diceva, vado a fare un viaggio. Guardavo lo Sri Lanka e riprendevo a fare le fatture. No, non me l'ha raccontato. Ci sei mai stato in Sri Lanka? No, mai, mai. Lo odio lo Sri Lanka perché per me è un poster. Ci vorresti andare? Perché no, ormai... Sei stata in Sri Lanka? No, in Sri Lanka no. In compenso siete stati entrambi a girare in Russia negli anni 90, la Russia di Gorbachev, ma questo ce lo raccontate dopo la pubblicità. Intanto durante la pubblicità eravamo già a dichiarazione d'amore perché segnalo che il qui presente Iachetti ha preso la mano della qui presente Belvedere e le ha detto chi disprezza compra. Abbiamo capito tutto. No, no, gli ho detto. Ho detto qualcosa che ti è spiaciuto perché è normale. Io sono così, butto là le cose e poi mi pentono. No, ma non le buttare, fai prima, no? Non le buttare là. Eh, lo so, ma... Perché si non le butta per poi pentire. Sono fatto così. Eh, ma l'ho capito io da anni che l'ho capito. Quindi secondo me in questo ruolo di Patrick, in bloccati dalla neve, è perfetto. È perfetto, ma sì, quando io ho letto... Hai detto a lui, no? Volevo capire in Russia che avete fatto insieme. No, che ha fatto lei. Lei era protagonista con Franco Nero di un film sull'avanzata dei Lanzichenecchi nel 400. Il sacco di Roma, sì. Il sacco di Roma in Italia. Tutto costruito a Mosca, dove allora si stava tentando un processo di democratizzazione che poi abbiamo visto in questi giorni fallito da anni ormai. E niente, lei era la fidanzata del Tintoretto, interpretato da Franco. Che ricordo hai di quella Russia? Molto triste me la ricordo, perché nonostante si pensasse appunto, a un qualcosa per migliorare la loro situazione. Andando in giro, allora c'erano ancora persone molto povere che si vendevano, incontravi per strada la semplice forchetta piuttosto che il cucchiaio. Io mi ricordo anche nei... Perché giravamo spesso poi, andavamo spesso a fare delle passeggiate, nei mercati stessi, un sacco di persone che chiedevano le limosina. Ma il ricordo era anche che lo facevano con dignità. Capito? Questa cosa... Oppure andavamo a mangiare dei ristoranti e c'erano delle code lunghissime per entrare nello stesso ristorante per i russi. E poi per i turisti invece non c'era nessuna coda. E questo spiega anche qualcosa dello spirito di rivalza, no? Dopo la fine dell'impero sovietico. perché poi la vita quotidiana ti racconta molto anche... Forse anche molto di più di tanta geopolitica. Vittoria, hai fatto tale quale show. Lo vediamo. Oh Gesù Benedetto. Canti. 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 Vittoria Calabrese con tre figli. Accento nordico. Hai raccontato l'ultima volta che sei venuta, per cui ti puoi definire un'amica di oggi o un altro giorno, che quando hai visto tuo marito che si dedicava quasi più ai figli di te, un po' ci sei rimasta male. È ancora così? No, in realtà con il primo figlio, perché quando è nato Lorenzo, in quegli anni praticamente io mi sono sposata. A giugno e a luglio ho scoperto di essere incinta e dopodiché, ovviamente dopo nove mesi, ho partorito, ma avevo un sacco di serie televisive dove dovevo fare il seguito, avevo un film in Francia insieme a Michel Serrault e quindi lui si è occupato principalmente del primo figlio e mi ha sostituito, ma a tal punto che quasi come una leonessa difende i propri cuccioli. Quando io tornavo a casa e magari cercavo di riprendermi e di riappropriarmi del mio ruolo, lui ringhiava, cioè mordeva, diceva no, ma non sei capace, no, non vedi, è troppo coperto, fuori fa caldo, no, è troppo nudo, fuori fa freddo e quindi io l'ho patita molto questa cosa. Poi Emma invece sono riuscita... Sì, a denti stretti a tenermela bene e invece il terzo, perché ho ripreso a rilavorare, è un po' figlio di entrambi, ecco, cioè non ci siamo distribuiti bene i ruoli. Ma è una famiglia, poi ci si riequilibria. E anche tu Enzo ti sei occupato di tuo figlio Martino a lungo quando era tua moglie a portare i soldi in casa. Esatto, io facevo una beata mazza e quindi mi occupavo del bimbo. Da zero a quattro anni sapevo tutto, tutto, anche i colori... A che ora faceva la popò? La popò, i colori della popò, tutto, tutto, se stava bene, se non stava bene, tant'è che poi, quando ho cominciato a uscire di casa, lui protestava e urlava dovevo scappare da sotto il letto, perché se mi vedeva... E questa esperienza di papà a tempo pieno cosa ti ha regalato umanamente? Tanto e un grande vuoto dopo, perché dopo ho potuto vederlo molto poco. D'altra parte il mio sogno si stava realizzando. Certo, quindi il lavoro ti portava via. Però questo ci fa anche riflettere, no? Vittoria, su questi stereotipi, no? Cioè, maschio, femmina, può capitare che magari sia la donna a lavorare più dell'uomo, viceversa, però Martino è cresciuto bene pure col papà, anche avendo meno la mamma. Martino è splendido ragazzo. Quanti anni ha adesso? 35. La nonna l'ha conosciuto, ovviamente. Ha vissuto tanto vicino, perché abitavamo vicino. Come si chiamava la mamma? Maria, il nome più bello del mondo. Come la mia mamma. Maria. Abbiamo anche questo in comune. Ma pensate. L'ultima clip di Enzo Cantante. Il mio naviglio è un vestito gessato Sul quale scorre il mio fiume preferito Il mio naviglio è un bacio che si è sciolto In mezzo al traffico, al fianco del mio orto. Talento, il talento c'era già allora il talento. Ma sai, certo, ma infatti noi siamo grati alla tua perseveranza e alla perseveranza di mamma Maria. Grazie. E vogliamo bene però anche a papà? Antonio. Antonio, che comunque diciamo ti ha messo su un po' più responsabile. Certo, ma guai. Perché la libertà è partecipazione. So che amate Giorgio Gaber entrambi e che adesso ci regalate. Questa bella canzone. Io ho una frase. Ma tu non canti, Vittoria. Io ho una frase. Vieni, vieni che c'è il nostro Antonio pronto. Vittoria, facciamo il coro. Cosa posso dire? Il coro tutti insieme. Ero giovane, Gaber, insomma, con grande stima. Ups. Vittoria canta solo canzoni di... Non è la mia generazione, ma... Non è la mia generazione, sai. Non è solo Durana, nemmeno. Il David Bowie canta. Sandy Lowe. Io però sono d'accordo che faccio solo l'intro. Va bene, dai, fai quello che puoi, però questa canzone ci fa bene, dai. Ma con grande gritta. La mia camera, per cortesia, qual è? Mi ha alzato la mano questa. Grazie. Voglio essere libero. Libero come un uomo. Voglio essere libero come un uomo. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. La libertà non è uno spazio libero. La libertà non è uno spazio libero. La libertà non è uno spazio libero. Quanto ci commuove questa canzone. Grazie Vittoria. Grazie a voi. Grazie a voi. Bloccate dalla neve in giro per l'Italia. Vi aspettiamo. Assolutamente. Cercate le tappe in tutta Italia. Grazie a voi.